attaccatura dell'orecchio state attenti solo a non tirare che se tirate troppo ovviamente fate la rasatura andate a tosare la parte del cranio per pettinare e spattolare completamente il cane di spricare eventuali ciuffi mazzettati e dopodiché passo in contropelo per dare un po più di volume ovviamente guardiamo dove nasce il centro della coscia cerchiamo di dividere a metà questo spazio per poter bilanciare meglio il nostro cane guardiamo ovviamente difetti ci sono difetti quindi tutto intorno mi collego anche qui che abbiamo fatto la 5 contro sulla testa quindi deve essere un passaggio un'intersezione perfetta per dare continuità al taglio il primo taglio di questo ciglio è leggermente piegato vedete sono due linee la prima e la seconda dovete sempre considerare che una volta questo cane aveva le orecchie tagliate quindi si creavano due linee ciao ciao